come te la toglie il dash del quando tiri la super con il quella strega lì che cazzo è quando tiri la dumblade questo è il classico pad player che arriva da console il classico pad player che arriva da console che non sa giocare che si mette solo armi meta con lame assist bravo my little pony non ha senso perché non ti consuma super praticamente come se non te la consumasse poi c'è sto my little pony cristo santo vabbè ci abbiamo lame assist enzomma sono fortissimo giochi col padd nell'arbalessa per fare due kill vuoi 1v1 ti apro col pad sicuramente con mk se giochiamo a parità di periferiche probabilmente neanche mi vedi arrivare paddino paddino arbalesta automatico 1v1 non sai manco le regole putta se manco le regole di 1v1 cazzo vuoi fare 1v1 bella felix come stai che pensa usare l'arbalessa e perdere comunque pazzesco col pad eh con l'hc ti arro ti arro parli italiano prima di tutto prima di venire qua in stream ciao ciao No No Vedi eccolo lì Se l'è messo pure il titano con la stasi Ragazzi pur di matcharmi e vincere Si è messo il titano con la stasi Arbalesta automatico Sì 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 Sì